L'AMBC servizi di nuovo in campo a Tortona per il turno infrasettimanale. Mercoledì 27 marzo alle 21 al palazzetto Camagna e Amaranto saranno impegnati nella prima giornata di ritorno della seconda fase contro i padroni di casa della Gulliver d'Ertona. Recuperati tutti i giocatori rispetto alla gara di andata e conquistate le finali nazionali con l'Under-19 eccellenza, Tortona si presenta come un avversario molto ostico e desideroso di reagire dopo la sconfitta con il minimo scarto subita da Quarrata nell'ultimo turno. Il trio Enrico, Tandia e Jokovic, assente ad Arezzo, viaggia ad oltre i 10 punti di media realizzati e garantisce molta fisicità e pericolosità offensiva alla squadra guidata da Coccia Anzaloni. In casa Maranto in miglioramento le condizioni di Giannicelli dopo la distorsione alla caviglia, che non gli ha permesso di essere nelle migliori condizioni a Varese, per il resto Coccia e Evangelisti farà affidamento sulla rosa che sabato scorso ha sbancato il Palacampus di Varese. L'appuntamento per il turno infrasettimanale che precede la pausa per le festività pasquali è dunque per mercoledì alle 21 al palazzetto Camagna di Tortona, quando si sfideranno Gulliver d'Ertona, Baseball Lab e Amembici Servizi Arezzo.